Grazie Presidente. I giochi mondiali amatoriali sono una manifestazione multisportiva che ha luogo ogni due anni. Sono organizzati dall'OXIT, la Confederazione Sportiva Internazionale dei Lavoratori. Si tratta di un evento che coinvolge oltre 5.000 partecipanti tra atleti e accompagnatori. Quindi una manifestazione molto partecipata, molto importante, che porne al centro lo sport di base, quindi lo sport amatoriale. E si svolge su 20 discipline sportive, quindi è una manifestazione multidisciplinare e le discipline sono tutte che possono già essere svolte adesso presso impianti sportivi di proprietà comunale. Quindi dal punto di vista dei costi necessari allo svolgimento dell'evento non vi sono elementi di criticità, in quanto l'impiantistica è già pronta per ospitarli. La prima edizione dei giochi si è svolta nel 2008 a Rimini, l'anno scorso nel 2017 si è svolta a Riga, la prossima, quella del 2019, si svolgerà in Spagna, a Tortosa, che è un paese di 34.000 abitanti. Dunque questo lo dico per far capire di che tipo di evento stiamo parlando e appunto nel 2021 si svolgerà la prossima edizione e i termini per presentare le candidature stando per scadere. Motivo per cui abbiamo deciso di portare urgentemente questa mozione in quanto riteniamo che possa essere di interesse per la città presentare una candidatura e quindi rispondere a quelle che sono le scadenze urgenti della prossima settimana. Quindi una lettera di interessamento e un eventuale video di presentazione della città. Grazie. Grazie consigliere.